Centauri Digitali Centauri Digitali, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia in vetta la classifica Cresce la compravendita online del reparto moto accessori barra ricambi, ogni 27 secondi su ebuy.it viene effettuato un acquisto. Tra gli oggetti che hanno visto laumento della richiesta rispetto allanno passato spiccano, i sistemi di iniezione e valvole di aspirazione più 40, neumatici più 31, manubri e sistemi di trasmissione più 29. Le regioni del sud guidano la crescita degli acquisti della maggior parte delle categorie, Molise, Puglia, Basilicata per luci e frecce, Calabria, Puglia e Sicilia per freni, Sicilia, Sardegna e Molise per pneumatici. I veri Centauri ormai sono quelli 20, solo online infatti i più appassionati riescono a trovare ogni tipologia di ricambio per moto e gli accessori di cui hanno bisogno per percorrere le strade di tutto il mondo. E il vantaggio più grande è che possono farlo quando vogliono, riuscendo anche a risparmiare. ebuy.it infatti registra un acquisto di accessori o ricambi per moto ogni 27 secondi tra gli oltre 16 milioni di articoli disponibili in ogni momento. Comprare ciò che si vuole in qualsiasi momento è sicuramente un plus che ha convertito molti amanti della moto a comprare i propri accessori e ricambi online. Tra gli oggetti che hanno visto laumento della richiesta in tutta Italia rispetto all'anno passato spiccano, i sistemi di iniezione e valvole di aspirazione più 40, pneumatici più 31, manubri e sistemi di trasmissione più 29. Ma anche la sicurezza è importante, e gli italiani lo sanno, nel 2016 sono stati comprati oltre 100 mila caschi. Dall'osservatorio di ebuy.it emergono inoltre le peculiarità regionali, le regioni del sud come Molise, Puglia e Basilicata guidano la crescita a doppia cifra degli acquisti di luci e frecce per moto. Risultano essere invece Calabria, Umbria, Puglia e Sicilia quelle in cui spopolano i freni, con Calabria in vetta con il più 39. Per quanto riguarda coloro che vogliono vederci sempre chiaro, sono i centauri di Molise, Basilicata, Calabria che hanno aumentato l'acquisto degli specchietti retrovisori, superando la soglia del più 25. Le persone che invece fanno affidamento a Debye per comprare gli pneumatici per il proprio bolide, ai primi tre posti troviamo Sicilia, Sardegna e il Molise. Pezzi di ricambio ma non solo, anche l'occhio vuole la sua parte. Lo sanno bene i campani, premi nell'acquisto di decorazioni e adesivi per moto, con un incremento a No del 27, seguiti da siciliani e molisani con un incremento negli acquisti in questa categoria del 24. . Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps. .